Il peggio, ringraziando il buon Dio, sarebbe passato e adesso e ora ringraziare tutti coloro che l'hanno aiutata e sostenuta durante alcune ore che sarebbero state per lei molto difficili, complicate. La cattante infatti sarebbe stata ricoverata in ospedale per un esaurimento nervoso causato dallo stress. Appena ripresa sì però, ci avrebbe tenuto ad assicurare tutti i suoi fan o meglio follower su Twitter a proposito delle proprie condizioni di salute. Ora sto bene, grazie a tutti, ma oggi è stata un po' dura. La ragazza 25enne di origine albanesi, pensate che aveva appena finito di girare un lungo studio mio fotografico per la nuova campagna di Ziness e ovviamente avrebbe quindi avuto questo risormento del buon Dio. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per l'ascolto, le video e le video termina qua. Vi ricordo che a provocare questa situazione qua sarebbe stato, secondo qualcuno, un altro avvenimento. Infatti proprio ieri, dopo una lunga canna di consiglio, il 25enne sarebbe stato condannato per un porto in un appartamento di Rita, adesso una cantante, dove la cantante, scusate, dormiva, i rumori avrebbero svegliato le due e Rita ora le ha chiamate 9-1-1, terrorizzate, 9-1-1, vi ricordo che è il nome di Presidente in America. Non so che cosa fare? Ah, un cartello di Stan Salerno, un attimo superiore, dove ciò le tre camere da letto, le camere da letto. Questo sarebbe quanto? Iscrivetevi, commentate, non so, lo so più tutti. Grazie a tutti.